Seggiunti dunque le battute finali, l'evento finale del corso tecnico della programmazione, realizzazione e verifica dell'intervento formativo della gestione d'aula e della valutazione degli apprendimenti, organizzato sempre dalla scuola edile CPT di Brindisi. Oggi ci accingiamo a dare gli attestati agli allievi, quindi allievi laureati e diplomati che hanno conseguito con la frequenza di questo corso un attestato importante che è quello di programmatore per la formazione. Già alcuni di loro durante l'ultima fase della frequenza hanno ottenuto da parte di alcuni enti la possibilità di avere dei contratti di collaborazione. Questo ci inorgoglisce perché di fatto ci mette in condizioni di dimostrare la nostra capacità attraverso i nostri docenti, tutor e quant'altro del livello che naturalmente abbiamo saputo dare a questo corso. Oggi nella tavola rotonda noi affronteremo proprio con gli stessi allievi quella che è la tematica principale per cercare appunto di coinvolgere in quello che è il sistema non solo di apprendimento per la formazione ma quello che loro dovranno dare appunto come futuri docenti o come futuri tutor. Noi speriamo che con questa nuova fase, intanto questi sono stati i POR che andavano ad ultimazione, quelli del 2007-2013. Quindi noi abbiamo col finanziamento della provincia, grazie alla provincia ma anche attraverso i fondi della regione, comunitari, potuto ottemperare a quello che è questo corso. E siamo molto attenti, ecco perché la presenza anche dell'assessore Leo che stiamo attendendo, affinché questo cambio anche dell'aggiunta ci metta in condizione di dare seguito a quello che è stata l'aggiunta precedente, affinché i POR nuovi, quelli del 2015 al 2020, non fossero persi e quindi tornare indietro alla regione, ma fossero programmati affinché si continui a fare formazione di qualità attraverso tutte e cinque le scuole edili del territorio della Puglia e non solo, coordinati come interfaccia anche dal formato regionale che ha svolto un ruolo importante e determinante. Quindi noi ci aspichiamo che la materia prima, così come è deciso dalla comunità europea prima e poi dalle regioni, dallo Stato italiano, continui ad esserci affinché i giovani trovino degli sbocchi che poi alla fine si possano tramutare anche in occupazione. Una tavola rotonda in cui si parla di valutazione e validazione e di certificazione delle competenze, ma soprattutto c'è anche l'auspicio delle scuole edili del territorio di Brindisi e di tutta la Puglia, ovviamente, che i prossimi POR possano dare una mano per continuare l'opera fatta fino a questo momento. Sì, io penso che la regione continuerà su questo solco, insomma, quindi assolutamente noi daremo tutto il supporto come è stato dato, come è stato fatto in questi anni, quindi questi enti assolutamente sono indispensabili, sono enti che assolutamente sono complementari anche agli altri istituti e quindi assolutamente sì, penso che sia assolutamente importante dare il nostro contributo a questi enti. Ah, del personale sì, competente e...